Un pareggio che serve soltanto a muovere la classifica, ma che non cancella le difficoltà di una squadra in crisi di gioco e mentalità. L'Avezzano strappa un pareggio contro un ottimo Vasto Girardi, che recrimina per la ghiotta occasione gettata al vento, che fa il pari con il 2-2 di domenica scorsa contro la Iesina. Per riscattare l'1-5 di Civitanova Marche, Mecomonaco lancia Pugliegli e Sicari dal primo minuto, affidandosi al consueto 4-3-3 con Franchi e Gaeta a pungere in avanti. 4-3-3 ibrido per Farina, che relega Chiare Mateng in panchina e fa spazio in prima linea a Daguano, supportato dai due brevi linei Varsi e Petrone. Dopo 60 secondi si fa vedere Franchi, serpentina del 7, tiro alto sopra lo specchio. Al settimo arriva la reazione del Vasto Girardi, Varsi si desteggia bene, conclusione improvvisa e palo pieno a Fanti battuto. Farina passa alla difesa 3, aprendo il centrocampo bianco-verde per liberare gli inserimenti di Varsi e Petrone. Al 14esimo è ancora l'11 il più pericoloso dei suoi, bomba da fuori centrale che Fanti blocca facilmente. Gli ospiti giocano con l'entusiasmo di una neopromossa e l'Avezzano fatica ad imbastire trame di gioco interessanti. Al quarto d'ora però si vedono spiragli di luce bianco-verde. Puglielli premia l'inserimento di Franchi che viene anticipato dalla smanacciata di Caparro. Al 19esimo torna a tremare la difesa dell'Avezzano. Varsi scatenato, prova da fuori, Fanti respinge a mano aperta. È il preludio al vantaggio degli altomolisani che arriva al 23esimo. Varsi serve un pallone delizioso al centro dell'area che da guanno spinge in rete col più facile dei tap-in. Primo gol stagionale per il classe 98 cresciuto nelle giovanili del Frosinone e vasto girar di avanti. La reazione dell'Avezzano arriva al 37esimo con Gaeta che raccoglie un tentativo di Puglielli ma si fa anticipare dall'intervento di Caparro. Squadre a riposo tra i fischi del De Marzi. In avvio di ripresa l'Avezzano sembra scuotersi. Contropiede lanciato da Di Gianfelice ma Franchi cincischia troppo e si fa anticipare sul più bello. Al quinto Mecomonaco inserisce Ranalli per uno spento Sicari passando ad un 3-5-2 con Franchi accentrato al fianco di Gaeta. Farina gioca la carta Chiere Mateng che prende il posto dell'autore del gol da guanno. Il cambio tattico sembra portare nuova linfa alla manovra dei biancoverdi. Al 14esimo Di Giacomo va al cross per Gaeta che impatta bene ma non indirizzano lo specchio. Mecomonaco fa esordire Diop per Puglielli e lancia Kras per Traditi. Al 24esimo sono però gli ospiti a pungere. Chiere Mateng si gira dall'area piccola riflesso provvidenziale di Fanti che alza sopra la traversa. L'Avezzano alza il baricentro ma fatica ad incidere evidenziando limiti tecnici e mentali. Al 32esimo però arriva l'episodio che non ti aspetti. Da un lancio lungo dalla difesa Ruggeri anticipa Franchi ma spedisce involontariamente alle spalle di Caparro. 1-1 tra lo stupore del pubblico. E i biancoverdi che ritornano clamorosamente in gioco. Al 35esimo Gaeta avrebbe la palla del sospasso ma Cestina è piazzato calciando fuori misura. L'ultima occasione è ancora su punizione ma di marca ospite. L'ex Grazioso prova a sorprendere Fanti ma il numero uno si fa trovare pronto e respinge il pericolo. Finisce con il primo punto stagionale per l'Avezzano che muove la classifica ma deve riflettere su un'altra prova in colore. Ancora mare in bocca per la matricola Vasto Girardi che getta al vento tre punti che sembravano ormai ipotecati. La mistero è un po' come è successo domenica scorsa avete raccolto meno di quanto avete seminato nei 90 minuti. Mi fa piacere che lo dice lei perché quando lo diciamo noi sembriamo troppo di parte. Sì oggi è stata una partita che non vedevo come l'Avezzano la potesse pareggiare. Avevamo chiuso tutti i varchi, eravamo bravi nel ripartire. Era una partita che dovevamo chiudere perché quando arrivi fuori casa e hai 5-6 situazioni da gol sull'1-0 devi cercare di chiuderla. Però faccio un plauso ai ragazzi che ci hanno messo l'anima, hanno fatto una grossa prestazione e se continuiamo così c'è da considerare che noi oggi eravamo in campo con 7 giocatori che hanno giocato con me l'eccellenza l'anno scorso e non avevano ancora i ritmi, l'eccellenza molisana è un po' diversa dalle altre eccellenze quindi si perdono un po' i ritmi ma hanno dimostrato ancora oggi di essere giocatori importanti. La mister si è vista una squadra in difficoltà per larghi tratti e alla fine però vi portate a casa questo punto che è buono a movimentare la classifica. Assolutamente, non siamo tranquilli, lo si vede, siamo partiti con buoni propositi poi siamo andati subito in difficoltà dopo abbiamo preso questo gol che ci ha ammazzato a livello mentale in questo momento però i ragazzi poi nel secondo tempo con il cuore, con la voglia hanno tentato di recuperare questa partita che come si era messa all'inizio era difficile. Io ai ragazzi che cosa posso dire? Ragazzi si sono impegnati il secondo tempo, dobbiamo stare calmi, so che tutti quanti vogliamo ottenere un risultato diverso ma purtroppo in una situazione di non tranquillità non ci riusciamo perché è una squadra giovane però poi nel secondo tempo anche con un pizzico di fortuna abbiamo avuto la forza almeno di pareggiare questa partita muoviamo la classifica sperando che i ragazzi si tranquillizzino un attimo.